Grazie Presidente. 22 giorni fa ho presentato le mie dimissioni dal Senato dopo aver ricevuto un'offerta da parte dell'Università Cattolica di Milano di andare a dirigere un programma di educazione nelle scienze economiche e sociali. Questo programma è rivolto agli studenti delle superiori di tutta Italia, copre tutto il territorio nazionale e consiste in visite da parte di personaggi che hanno una storia, una carriera a livelli elevatissimi con lo scopo in parte di fornire informazioni nelle aree dell'economia e del diritto e nelle altre scienze sociali ma sinceramente anche quello di ispirare insegnanti e studenti per il loro futuro professionale. Questo è un programma che verrebbe svolto interamente a titolo gratuito da parte ovviamente mia che dirigerà il programma e da parte di tutti i partecipanti. I temi che si andrebbero a discutere sono quelli in generale dell'economia e del diritto, riguarderebbero la crescita economica, le politiche strutturali, le questioni relative alle disuguaglianze territoriali, disuguaglianze di genere, le questioni anche di adattamento ai cambiamenti climatici, le questioni relative al rapporto tra economia e diritto, le questioni relative alla Costituzione e anche una parte di comunicazione di queste politiche. È un programma che credo sia molto utile al Paese, ai nostri giovani. Purtroppo è incompatibile con il lavoro di senatore.